Allora adesso un'altra scoperta. Il primo giorno abbiamo scoperto che Gesù ci ama. Il secondo giorno abbiamo scoperto che noi possiamo amare Gesù, amare gli altri. Che è la stessa cosa infatti. Adesso voglio parlarvi della presenza di Gesù. Gesù l'hanno ammazzato però lui è risorto, quindi Gesù è vivo. Il suo cuore sta battendo in questo momento ma lui è presente in ogni luogo perché lui è come Dio, è Dio, è uomo ed è Dio allo stesso tempo e Dio può essere dappertutto. Allora Gesù è sempre con noi, ok? Ed è una cosa un po' miracolosa che lui a Gesù adesso è qui con noi ma giù sono rimaste le oxi le cuoche ed è pure con loro. Gesù può essere contemporaneamente in due posti? Sì, può fare questo. Anche in cento. Ma questa presenza di Gesù non è una cosa simbolica, è proprio reale. Solo che di solito noi Gesù non lo vediamo, non ce ne accorgiamo. Ma c'è un modo per fare esperienza di Gesù. Ecco, allora io sono sicuro che voi scenderete giù dicendo noi abbiamo visto Gesù in qualche modo, abbiamo visto gli indizi di Gesù. Allora adesso vi spiego un segreto. Gesù ha detto amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Se voi vi amerete, cioè sarete uniti nel mio nome, io sono in mezzo a voi. Allora cosa vuol dire? Che quando noi crediamo in Lui è sempre con noi Gesù, ma non lo vediamo. Però se oltre a credere in Lui ci amiamo, ci vogliamo bene, sentiamo gli effetti della sua presenza. Per esempio, Gesù ci dà la pace. Anche se c'è un problema, non abbiamo paura. Anche se abbiamo una difficoltà, abbiamo una forza per affrontare questa difficoltà. Anche quando c'è un dolore, quasi non lo sentiamo. Perché? Perché sentiamo la sua vicinanza. Ci sentiamo capaci di dare. Posso dire che qualche volta qualcuno di voi si è animatore che vi si è un po' stravacati, un po' non ho voglia. Qui siete tutti in donazione. Sentite ragazzi una forza più grande dentro di voi. Questa è la presenza di Gesù, che ti aiuta a mostrare il lato migliore di te. Con don Sergio e con don Marco noi cerchiamo di vivere così, amarci sempre tra di noi. E questo ci dà tanta forza di mostrare il lato migliore, di essere sempre positivi. Ecco, qualche volta ci sono persone che vi possono dire, ma no, lascia stare. Ti possono consigliare di fare delle cose negative, delle cose brutte, sparlare male di uno. Possono consigliarti di prendere in giro. Ma tu hai la forza di dire di no, perché senti Gesù, la forza di Gesù. Capito? Se noi abbiamo questa amicizia con Gesù tra noi, avremo la forza pure di vincere le cosiddette tentazioni, che sono quelle strade che sembrano felicità, ma non lo sono, perché ti fanno smettere di amare. E allora ogni cosa che mi fa smettere di amare non è felicità. Pensate quante volte Gesù scaccia via la tristezza, scaccia via lo scoraggiamento e poi capita la provvidenza. Cioè, magari succede che non ci sono i mezzi per fare una cosa e arrivano i mezzi. Anche economici. Magari succede che dobbiamo fare una cosa e ci viene un'idea che nessuno ci aveva pensato. Ci viene un'idea che è nuova. Ecco, Gesù si manifesta attraverso tutti questi indizi. Ecco, vorrei che voi dite, dopo quando siete nei gruppi, chissà se abbiamo trovato gli indizi di Gesù, come il detective. Ieri c'era un personaggio che era il detective, mi pare, nel gioco. Eccolo lì. Lui il detective. Poi c'era pure l'investigatore o la poliziotta. Insomma, ecco, loro investigavano. Ecco, noi dobbiamo essere dei detective che investigano per trovare la presenza di Gesù. Però, prima di tutto, dobbiamo amarci. Perché qualche volta dici, ma come? Io i segni della presenza di Gesù non li sento, non li vedo. Quella gioia non ce l'ho. Quella forza non ce l'ho. Ma tu stai amando gli altri. Ma voi state mettendo l'amore prima di tutto. Ecco qual è il segreto, ragazzi. Tutti vi diranno che bisogna volersi bene. Chi è che vi dice che bisogna odiarsi? Però è veramente la cosa più importante. Tante volte noi diciamo, sì, bisogna volersi bene. Però è più importante fare il mio programma, è più importante fare come la mia idea, è più importante che vinca la mia squadra, è più importante che facciamo il gioco che piace a me, è più importante, giusto? Invece voi dovete essere convinti che amarsi è la cosa più importante sempre. Tutto il resto è in secondario. Ecco, se noi avremo questa convinzione, cambierà la nostra vita, cambierà la nostra parrocchia, cambierà Borgaro, cambierà la vostra classe, il vostro gruppo di calcio o di danza o di arti marziali. Cambierà se noi ci convinciamo che la prima cosa è amarci, rispettarci, ascoltarci, volerci bene. Il resto è tutto secondario. Il resto viene da solo. Molte volte la prima cosa principale, noi quando qualche volta dovevamo prepararci una cosa e magari passevamo prima il tempo a dirci come stai, tutto bene, raccontarci le cose della nostra anima e poi in un quarto d'ora venivano le idee su tutto. È vero Don Sergio? Che abbiamo tante volte sperimentato questo. Perché la prima cosa è volersi bene. Ecco, è una presenza speciale di Gesù. Adesso vi farò un esempio. Vediamo un po'. Vengono i due Lorenzo. Ecco. E si mettono uno accanto all'altro. Allora ho già fatto all'oratorio questo esempio ma lo rifaccio. Allora vedete che loro sono vicini perché stanno cercando proprio di volersi bene, di rispettarsi, stanno guidando la loro squadra, si ascoltano, si completano e fanno la loro parte. Ma a un certo punto arriva Gesù. Arriva Gesù. Guardate che Gesù arriva e si sente attirato. Gesù dal loro amore reciproco. Si sente proprio attirato. E allora Gesù si avvicina. Si avvicina. Perché quando noi ci vogliamo bene Gesù si mette al centro. E si mette dietro di loro. E cosa fa? Li abbraccia da dietro. Li abbraccia. E li fa diventare ancora più uniti. Ancora più amici. Questo fa Gesù. Avete capito? Se noi ci amiamo ci rende ancora più uniti. Con un'unità che solo lui può fare. Perché l'unità è un dono suo. Perché dobbiamo fare noi il primo passo e poi lui ci aiuta. E certo. A volte il primo passo per noi è molto incompleto. Perché siamo pieni di difetti. Ma lui? Mentre per esempio loro invece in questo momento litigano. Fate che litigate. Si allontanano. Si guardano un po' male. Guardatevi male. Allora Gesù cosa fa? Si mette in un angolo. Guardate com'è. Gesù c'è. C'è sempre Gesù risorto. No? Ma è lì in un angolo. Perché? Perché loro non si vogliono bene. Allora cosa devono fare? Riavvicinare. Devono riavvicinare. Devono fare la pace. Abbracciare. E Gesù torna. E anche lui le abbraccia. Ecco. Allora dobbiamo dire. Qualche volta c'è Gesù in mezzo. E qualche volta non c'è. Perché non è che lui non c'è. Siamo noi che non ci siamo. Allora quando non sentite più. Quando adesso magari in questo campo avrete sperimentato quella gioia. Che solo Gesù può darvi. Che solo Gesù in mezzo può darvi. Quella forza. Avete sentito che eravate persone. Vi sentivate persone diverse. Che veniva da fuori di voi un lato migliore. In fondo l'esperienza che voi animatori avete fatto al campo dei saliciari è questa. È questa esperienza qua. C'era Gesù in mezzo. Quindi si può fare lì ma si può fare anche qua. E si può fare anche a Borgaro. E si può fare in un momento di tempo libero. Sempre si può fare questa esperienza. Basta che crediamo in lui e ci amiamo. E se invece qualche volta non c'è. Perché noi lo mandiamo via. Allora se non sentite più quella forza basta che diciamo. Ok la prima cosa più importante è volerci bene. Noi qualche volta con Don Sergio diciamo addirittura. Don Sergio. Sono pronto a dare la vita per te. E anch'io. E anch'io. Ma non solo non con le parole. E noi qualche volta se ci guardate ci facciamo un segno così. Che vuol dire io sono pronta a dare la vita per te. Noi ce lo diciamo diverse volte al giorno con uno sguardo. Quando uno sguardo non sappiamo quello sguardo vuol dire. Oppure Sergio devo parlare. Fammi unità. Cosa vuol dire fammi unità? Aiutami perché sia Gesù a parlare in me. Ecco. Perché noi ci amiamo. E siamo sicuri che Gesù fa. E per questo che noi prima di tutto abbiamo voluto essere sempre in due. Siamo io e Don Sergio. Nel prossimo campo saremo io e Guglielmo. Che anche Guglielmo vive questa cosa di Gesù in mezzo. Ma anche voi la potete vivere. E allora siamo sicuri che Gesù ci sono stati dei frutti. Non è perché era bravo Don Sergio. Perché era bravo io. Sono bravi i catechisti. Gli animatori. Ma perché Gesù li ha fatti. Capite cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù diventa l'animatore. Gesù diventa il parroco. Gesù diventa tutto. Questa è la presenza di Gesù in mezzo. Se il Signore vi fa capire questo. Io sono veramente veramente felice. Lorenzo ascolta. Leggisi di questa esperienza. Emanuele racconta. In quest'ultima settimana siamo andati a scuola solo due ore al giorno. Ieri, ritornando, ho visto che la mia casa era un vero disastro e c'era disordine dappertutto. Stavo per mettermi a fare i compiti, dicendo a me stesso che era la cosa più importante da fare. Quando ho capito che Gesù in quel momento mi chiedeva di mettere in ordine la casa. Sapevo infatti che la mamma sarebbe tornata verso le 12 e avrebbe cominciato lei, stanca già dal lavoro, a pulire, lavare e riordinare. Senza esitazione mi sono messo al lavoro e dopo dieci minuti è suonato il campanello. Erano Francesco e Luigi, due miei amici, che vedendomi lavorare hanno subito deciso di aiutarmi. Di buona lena siamo andati avanti e fra di noi era bellissimo. C'era proprio Gesù in mezzo. Così prima delle 12 era tutto a posto. La mamma, tenendo ancora la chiave nella toppa, si è guardata intorno sorpresa. Poi ha esclamato, mi sembra di essere in paradiso. Io non so, eppure non credo che l'abbia detto solo per la casa in ordine, ma soprattutto per l'unità fortissima che c'era fra di noi. Avete visto, quando c'è Gesù in mezzo sembra di essere in paradiso. Quella mamma l'ha visto perché ha visto tutto in ordine. Ma come dice Emanuele, è stata colpita soprattutto da vedere l'unità. che c'era tra quei ragazzini che hanno fatto questo gesto d'amore. Allora, quando c'è l'unità Gesù si vede. Non potete dire che non la vedete, ma veramente quando siamo uniti Gesù si vede. Non si vede con gli occhi, ma si vede con gli indizi.